Adesso devo fare una presentazione particolare. Come stavo dicendo prima insieme a Franco sulla questione dell'Andiamo in Brasile, Gianni ha insistito perché io imparassi una canzone in portoghese. Ora, grazie a Giseli, a sua moglie, ho preso un po' lezioni di portoghese e quindi io questa canzone la canto, la vorrei cantare però, con l'aiuto e il sostegno del nostro Cesare. Cesare, vieni! Allora, voi che ci seguite sapete che il nostro Cesare è il nostro cameriere quest'anno ed è il cameriere che viene da San Paolo do Brasil, al qua, brasiliano, che come vedete rifocilla i nostri ospiti durante la trasmissione. È venuto dal Brasile apposta, stiamo facendo lezioni di italiano, quindi prima che tu dica a me come parlo io il portoghese, tu di una cosa in italiano, come si saluta in italiano. Ciao! Ciao! Buonasera! Buonasera a tutti! A tutti! Oh, bene, ciao e buonasera! Come sei bella! Bellissima! Io sto insegnando quello che mi pare, insomma, non so se si era capito. Ora, Cesare, io vorrei che tu ti accomodassi qui, tra i nostri ospiti, così ascolti questa canzone e... Come fa la canzone? No, no, Cesare, ti prego, ti prego, di tu il titolo! Una famosissima canzone di Roberto Carlos, accompagnata da Gianluca Sinatra e Mikol alle coreografie Come è grande o mio amore por vosè. Come è grande o mio amore por voi. E non ha nada pra comparare, Come è grande o mio amore por voi. 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 Non c'è... Nen'un secondo che io tengo un amore Maior nel mondo Come è grande il mio amore Pur a voi Ma è come è grande il mio amore Pur a voi Com'era? Obbligato 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 Bellissimo Grazie Grazie Cesare